Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a recensire il Sabage A5, che è un amplificatore in classe D che ha la particolarità di montare un modulo IcePower. IcePower, infatti, è una delle aziende più famose al mondo per quanto riguarda la produzione di amplificatori in classe D, sia per uso Wi-Fi, sia per uso professionale, quindi per uso da palco. Prima di iniziare, voglio specificare che l'amplificatore mi è stato inviato dall'azienda Sabage per testarlo e farlo una recensione. Come al solito, questo non andrà a influire minimamente sul mio parere o sull'oggettività della mia recensione. E voglio ricordare, inoltre, a chi non l'abbia ancora fatto, di iscriversi al canale per non perdere i prossimi video. Possiamo cominciare subito con l'unboxing. La scatola è abbastanza grande e presenta il logo dell'azienda e anche il nome dell'amplificatore. Una volta aperta troviamo la solita protezione spugna e poi un libretto delle istruzioni che ha la lingua inglese e cinese. Poi troviamo un cavo di alimentazione, compreso asciuco, e dentro a un sacchetto protettivo in plastica troviamo l'amplificatore vero e proprio. La finitura estetica dell'amplificatore è veramente ottima e secondo me ha anche un design molto particolare. Andiamo infatti subito a vedere il pannello frontale che è molto lineare. In centro al frontale troviamo la scritta Sabage che è il logo dell'azienda. Sul pannello superiore troviamo poi a sinistra il logo ARS Audio e a destra il logo di Ice Power che è appunto l'azienda che produce il modulo di amplificazione che contiene questo amplificatore. Troviamo poi il tasto di accensione che in realtà è un vero e proprio interruttore, molto grande e ha anche un ottimo feeling. È una soluzione che trovo molto particolare sia dal punto di vista estetico che è anche di feeling al tatto. Troviamo poi un piccolo led azzurro che ci indica lo stato dell'amplificatore se è acceso o spento. Infine poi troviamo la manopola del volume che è di generose dimensioni. Vediamo poi il pannello posteriore che comprende un piccolo interruttore che ci promette di selezionare l'ingresso 1 o l'ingresso 2 quindi abbiamo la possibilità di switchare fra due ingressi. Poi troviamo le uscite per i diffusori. Poi troviamo il selettore della corrente di alimentazione sia 220V o 110V. E infine la vaschetta WDE con il relativo fusibile. A fianco al selettore di 220V come potete vedere c'è dell'adesivo. Questo è un residuo che ha lasciato una specie di etichetta che c'era quando è arrivato l'amplificatore che era attaccata appunto lì e è davanti alla vaschetta WDE. Etichetta che a primi potrebbero benissimo evitare di mettere visto che non ha alcun senso e anzi ha semplicemente sporcato il retro dell'amplificatore. Sono andato poi a smontare l'amplificatore per vedere l'interno. Le uniche viti a vista dell'amplificatore sono quelle del pannello posteriore che sono però le viti che fanno da supporto ai connettori posteriori. Quindi sono andato a svitare i quattro piedini sul fondo dell'amplificatore e una volta svitati i piedini si hanno accesso ad altri quattro viti che permettono di smontare il pannello inferiore dell'amplificatore. Una volta svitato il pannello non si riesce a togliere in quanto il modulo di amplificazione è direttamente attaccato a questo pannello e i cavi non sono abbastanza lunghi da permettere al pannello di essere tolto. Quindi possiamo solamente dare una sbriciata all'interno e come potete vedere si riesce a riconoscere il modulo di amplificazione che è l'unico componente che è presente all'interno di questo case. In particolare questo modulo è un Ice Power 50 ASX 2SE. Se andiamo sul sito di Ice Power troviamo anche il prezzo di questo modulo di amplificazione che costa 77 dollari se prendiamo un cartone di 56 moduli oppure 152 dollari se vogliamo un solo esemplare. In questa immagine possiamo vedere da vicino l'amplificatore in classe D vero e proprio. In questa piccola scheda è compresa anche la parte di alimentazione infatti rispetto alla maggior parte dell'amplificatore in classe D che ho provato finora qui non abbiamo il classico alimentatorino switching esterno da cui viene attaccato l'amplificatore qui si arriva all'amplificatore direttamente col cavo ad alta tensione e l'alimentatore è compreso in questa borda di amplificazione. Vediamo infatti che abbiamo due grossi condensatori sulla sinistra che sono i condensatori dell'alimentazione abbiamo tutta la parte di alimentazione switching direttamente sulla parte sinistra della PCB nella parte destra troviamo invece la vera e propria parte di amplificazione stiamo parlando di un modulo che è veramente piccolissimo è lungo 11 cm largo 8 cm e alto solo 3 cm a parer mio è proprio un piccolo capolavoro di ingegneria prima di passare a vedere la parte di misurazioni vediamo velocemente le caratteristiche tecniche che dichiara IcePower direttamente sul suo sito del modulo che di per sé sono anche le caratteristiche tecniche dell'amplificatore visto che la Sabage ha fatto semplicemente un case di alluminio attorno a questo piccolo modulo di amplificazione viene dichiarata la potenza di uscita con una THD dell'1% quindi lo stesso parametro con cui misuro io gli amplificatori e abbiamo una potenza di 2x50W su 4 Ohm e 2x25W su 8 Ohm poi viene data la potenza con una THD del 10% quindi quando l'amplificatore inizia a distorcere molto e abbiamo 60W su 4 Ohm ci viene detto che la minima impedienza di diffusori è di 2 Ohm quindi riescono a pilotare anche i carichi da 2 Ohm poi l'efficienza totale dell'alimentazione più l'amplificazione che è di 81% poi il voltaggio che può funzionare quindi da 85 a 264V il picco di corrente massima che riesce ad erogare che è 20A il rigido dinamico che è di 120dB la massima uscita di amplificatori per canale che è di 20V e anche l'uscita di rumore che è di 25μV e poi abbiamo il THD più N quindi la distorsione più rumore a 1W e 1KHz che è dello 0,003% ora passiamo subito alla parte di misurazioni per vedere se quanto detto nel data uscita è effettivamente vero per prima cosa vediamo la risposta in frequenza su carichi da 8, 4 e 2 Ohm in particolare in azzurro vediamo la risposta su carichi da 8 Ohm in giallo la risposta su carichi da 4 Ohm e in blu la risposta su carichi da 2 Ohm possiamo vedere che fino a 10.000Hz le curve sono distanziate fra loro di circa 0,1dB quindi pochissimo e inoltre dopo i 10kHz abbiamo una leggera dipendenza dal carico come tutti i classi D ma questa dipendenza dal carico è veramente veramente minima a 20kHz infatti la risposta su 4 Ohm e 8 Ohm sono praticamente sovrapposte invece quella sulla risposta da 2 Ohm è leggermente più alta circa 0,1dB 0,2dB quindi pochissimo la grossa dipendenza dal carico sta a frequenze molto più alte in particolare attorno ai 60 dai 60 agli 80kHz vediamo che mentre le risposte da 4 e 2 Ohm scendono verticosamente quella da 8 Ohm continua quindi possiamo dire che la dipendenza dal carico c'è ma in questo amplificatore è spostata sulle frequenze molto molto alte frequenze che il nostro orecchio non riesce ad udire quindi dal punto di vista della risposta in frequenza per ora mi sento di dire che questo è l'amplificatore in classe D migliore che abbia provato e testato finora passiamo poi a vedere la differenza fra i due canali come possiamo vedere la risposta è identica ma è scalata di circa 0,2dB questa differenza penso sia dovuta totalmente alla differenza di canali del potenziometro e questa misurazione è stata ottenuta con il potenziometro a metà del volume anche in questo caso 0,2dB è molto buono passiamo a vedere ora la misurazione della potenza in questo grafico vediamo l'andamento della distorsione dell'amplificatore in funzione della potenza la curva blu è stata ottenuta con un carico da 8 ohm su entrambi i canali e anche su un solo canale praticamente la curva era identica e qui vediamo che l'amplificatore si ferma a una potenza di 25 watt con una THD dell'1% poi la curva arancione è stata ottenuta con entrambi i canali in funzione su un carico da 4 ohm e in questo caso abbiamo 47 watt di potenza invece ho rilevato anche la potenza con un solo canale in funzione sempre su 4 ohm e la potenza è salita leggermente circa 50 watt infine ho deciso di testarlo anche su un carico da 2 ohm in questo caso con un solo canale in funzione visto che non ho a disposizione due carichi fittizi da 2 ohm ho potuto rilevarne la potenza solo con un canale in funzione in questo caso la potenza è stata di ben 90 watt su 2 ohm quindi devo dire che specialmente su 8 ohm la potenza non è molta 25 watt non sono pochi ma non sono neanche molti quindi vi consiglio di utilizzare questo amplificatore su casse abbastanza efficienti almeno circa 90 decibel se avete bisogno di grossi volumi di ascolto se invece siete abituati ad ascoltare la musica a livelli tranquilli potete prenderlo tranquillamente anche con casse meno efficienti c'è da dire però che ha un'ottima regolazione di corrente infatti possiamo vedere che scende tranquillamente fino a 2 ohm ed è ora addirittura 90 watt quindi da quel punto di vista riesce a gestire tranquillamente anche carichi difficili andiamo ora a posizionarlo nella classifica di potenza degli amplificatori che ho provato fino ad oggi e purtroppo si posiziona al primo posto quindi per adesso è l'amplificatore meno potente la classifica è ordinata per quanto riguarda la potenza sugli 8 ohm possiamo vedere che infatti è più potente su 4 ohm infatti a 47 watt è più potente del knob sound a3 si avvicina alla rilica 50 per quanto riguarda la potenza su 4 ohm diciamo che è molto penalizzato dalla potenza su 8 ohm vediamo ora la distorsione armonica o THD di questo amplificatore come di consueto la THD viene rilevata con un segnale a 1 kHz in particolare 1030 Hz con una potenza di 5 watt su un carico da 4 ohm possiamo vedere che abbiamo una seconda armonica che è a 107 decibel sotto al segnale a 1 kHz poi una terza armonica 94 decibel di sotto e una quarta armonica che scompare sotto il fondo di rumore una quinta armonica che scompare anch'essa sotto il fondo di rumore e poi torna una sesta armonica a 108 decibel e poi tutte le altre spariscono notiamo però che sopra i 10 kHz abbiamo un bel po' di spurie di frequenze che sono semplicemente delle interferenze comunque rumore che presenta questo amplificatore e diciamo che la peggiore arriva a circa 95 decibel di differenza rispetto al segnale di 5 watt andando a calcolare la THD utilizzando queste armoniche otteniamo una THD dello 0,00368% ed è in linea col valore che era dichiarato nel datasheet di Ice Power vediamo poi la distorsione di intermodulazione IMD in questo caso all'amplificatore vengono mandate molti sinusoidi a diverse frequenze e vengono valutate tutte le componenti di distorsione che produce come possiamo vedere la distorsione aumenta all'aumentare della frequenza in particolare dai 2000 Hz inizia a crescere fino ai 20 kHz a bassa frequenza abbiamo una media di 82 decibel per quanto riguarda le frequenze di distorsione mentre il picco più alto di distorsione è a 73 decibel con questi valori si intende la differenza rispetto alla piezza delle sinusoidi quindi riportando questi valori in percentuale abbiamo una media di distorsione dello 0,00794% invece la peggiore è uno 0,0224% quindi sono comunque valori abbastanza contenuti per avere un confronto a colpo d'occhio andiamo a confrontarlo con la distorsione di intermodulazione dell'Aima A07 Pro che è rappresentata in azzurro vediamo che effettivamente qui la distorsione di intermodulazione è più bassa specialmente alle altre frequenze rispetto a quella di questo Sabage A5 notiamo però che alle basse frequenze diciamo 100 Hz, 200 Hz, 500 Hz la distorsione di intermodulazione della Aima A07 Pro è leggermente più alta rispetto a quella del Sabage A5 per concludere la parte di misurazioni andiamo ad inserire il Sabage A5 nella classifica che ho fatto della distorsione di tutti gli amplificatori che ho provato finora come possiamo vedere anche in questo caso entra al primo posto in questo caso però è un'ottima posizione visto che il primo posto indica l'amplificatore che ha la distorsione più bassa la classifica è fatta dando priorità alla distorsione la THD rispetto alla distorsione di intermodulazione vediamo infatti che il Sabage A5 ha la THD più bassa di tutti gli amplificatori che abbiamo provato finora l'unico amplificatore che ha una IMD più bassa è la Aima A07 Pro che però ha una THD più alta quindi dal punto di vista della distorsione il Sabage A5 si comporta veramente veramente bene veniamo ora alle note d'uso ed ascolto per quanto riguarda le note d'uso io ho utilizzato l'amplificatore come finale di potenza infatti l'ho utilizzato con la IMA T10 che è un DAC che fa anche da preamplificatore e ho utilizzato il Sabage A5 con il volume sempre al massimo come finale di potenza devo dire che è molto comodo infatti possiamo lasciare sempre il volume al massimo e spegnere e accendere direttamente con la levetta di accensione non si avvertono forti bump si avverte ogni tanto solo un leggero tic-tio ad alta frequenza quando viene acceso e poi spento per quanto riguarda invece le impressioni d'ascolto devo dire che suona molto bene infatti le frequenze basse sono abbastanza profonde e anche abbastanza controllate e sia la gamma media che la gamma alta sono buone si avverte un leggero fruscio proveniente dai diffusori se posizioniamo l'orecchio vicino agli altoparlanti però niente di così problematico o che possa influenzare l'esperienza d'ascolto visto che già posizionandosi a una distanza di 2,5 metri già non si riesce a udire più nulla diciamo che l'unica nota avvolente è un po' la potenza infatti diciamo che i 25 Watt su 8 Ohm sono un po' pochini quando vogliamo spingere un po' di più iniziamo a sentire che l'amplificatore va un po' in sofferenza però io ascolto delle diffusori che hanno un'efficienza di circa 87 dB e sono abituato ad ascoltare a un volume abbastanza alto quindi ve lo sconsiglio se siete abituati a ascoltare a un certo livello di pressione sonora e avete delle casse poco efficienti invece potrebbe fare il caso vostro se avete o dei diffusori efficienti dai 90 dB in su o se non amate ascoltare a grandi volumi in quel caso 25 Watt su 8 Ohm vanno benissimo ottima poi è la gestione dei carichi difficili come abbiamo visto dalle misure infatti l'amplificatore può scendere fino a 2 Ohm e derogare addirittura 90 Watt veniamo ai voti finali alla potenza ho dato un 6 alle misurazioni un 9 al suono un 8 e mezzo al design un 9 alla versatilità un 7 e al rapporto qualità prezzo un 9 a proposito di prezzo questo amplificatore lo troviamo ad oggi su Amazon al costo di 122 euro e se pensiamo al fatto che come abbiamo visto prima sul sito dell'ice power questi moduli costano 152 euro se ne prendiamo 1 e 77 dollari se prendiamo uno scatolone da 56 pezzi capite bene che il prezzo è veramente concorrenziale dobbiamo infatti tenere presente che tutta la parte di alluminio che compone il case ha un costo non indifferente quindi a parer mio il prezzo che viene venduto è veramente ottimo nella descrizione del video trovate il link Amazon per andare a vedere il prezzo di questo amplificatore andate a controllare perché i prezzi di Amazon variano di giorno in giorno e rispetto al data in cui sto registrando il video il prezzo potrebbe essere o aumentato o diminuito vi ricordo che il link in descrizione è un link affiliato con Amazon quindi se voi decidete di acquistare questo amplificatore o qualsiasi altra cosa su Amazon passando attraverso il mio link per voi il prezzo non cambierà per nulla ma a me Amazon riconoscerà una piccolissima percentuale che potrò utilizzare per migliorare il setup per il mio canale ultima nota non fate caso al nome che viene dato su Amazon a questo apparecchio perché è scritto Savage a 5 amplificatori di potenza audio e file da tavolo con telecomando evidentemente hanno sbagliato a scrivere il titolo perché non c'è nessun telecomando visto che questo amplificatore proprio non prevede l'utilizzo di un telecomando grazie di aver visto il video fino alla fine vi ricordo se il video vi è piaciuto di lasciare un mi piace per voi non costa assolutamente nulla ma a me fa capire che qualcuno apprezza il video che faccio e mi sprona ad andare avanti e vi ricordo ancora di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto grazie e al prossimo video